buonasera a tutti da contorni di noir questa è una serata davvero eccezionale io sono molto emozionata nel presentarvi alessandro rovecchi buonasera alessandro buonasera ciao cicilia ciao luciano ciao a tutti ciao 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 grande grande scrittore italiano conosciutissimo poi appunto adesso vi racconterò qualche cosina su di lui ma proprio il minimo indispensabile perché è uno degli autori italiani più letti e quindi io sono felicissima di di presentarlo questa sera insieme a luciana fredella che già conoscete che avete visto blogger collaboratrice di contorni di noir folle per i gialli e quant'altro che metterà sotto torchio il nostro autore stasera e quindi sono molto molto felice di parlarvi di alessandro e intanto vi racconto siamo qui per presentare il suo nuovo romanzo titolato flora per sellerio editore e quindi che flora è un personaggetto particolare di cui parleremo intanto è un ritorno di carlo monterossi personaggio che alessandro rovecchi ha creato e stiamo al suo ottavo romanzo alessandro rovecchi faceva il giornalista poi ha pensato bene di deliziarci con i suoi noir gialli come li vuoi chiamare poi se vuoi ce lo spiegherai tu e commedie gialle chiamiamole commedie gialle ma litigeremo su questo punto litiga esatto benissimo e appunto siamo all'ottavo romanzo con carlo monterossi voglio dire che comunque alessandro attualmente è nella squadra di autori che scrive i programmi gli spettacoli di maurizio crozza collabora con alcuni giornali come il fatto quotidiano tutto libri della stampa e micromiga quindi ripeto c'è ci sarà anche in questa storia carlo monterossi ormai personaggio amato dai tuoi lettori e vorrei che iniziassi proprio tu a raccontarci chi è flora e che storia ci racconti questa volta dunque per una volta la trama non è così segreta con con come negli altri gialli anche miei diciamo flora de pisis viene rapita flora de pisis per chi ha già letto qualche storia del monterossi lo sa e gli altri lo impareranno qui è la regina della tv come posso dire il trash spiegazione molto semplice insomma con la tv del dolore delle lacrime facili dei disastri familiari eh delle delle cose private squadernate davanti a tutti e tra queste anche la cronaca nera quindi insomma anche come dire dolori veri e storie brutte insomma tutto squadernato senza alcun pudore davanti a tutti flora è come dire la regina di tutto questo grandissimi ascolti quindi grandi incassi quindi grande popolarità eh cosa non campata per aria perché se andate a vedere le tabelle auditel di quei programmi lì ce ne 4 5 6 in natura vedete che fanno sempre 5 milioni 6 milioni cioè oggi 6 milioni di persone in italia sono un partito di maggioranza relativa diciamo eh e quindi si pensa sempre alla tv come un elettrodomestico un po in disuso eh i miei figli lo guardano come io guarderei un grammofono però eh però ha sempre un grande peso sul sulla vita della gente e del paese insomma viene rapita e i rapitori ehm chiedono oltre a soldi naturalmente un'ora di diretta tv libera senza controlli senza filtri senza spazi pubblicitari senza insomma totalmente autogestita da questi pirati diciamo così e cosa vorranno dirci in quest'ora di televisione e soprattutto gliela concederanno si potrà fare il paese si divide insomma Monterossi viene incaricato delle indagini perché all'inizio si pensa di tenere nascosta la faccenda cosa che poi naturalmente non riuscirà e e quindi avremo il Monterossi con la sua squadra di privati diciamo così Oscar Falcone, la Cirielli insomma i suoi amici investigatori che seguono le loro piste mentre il paese impazzisce si divide partito della trattativa partito della fermezza tutto questo in un modo che che non posso troppo dire diciamo eh si intreccia con una strana vicenda che è la storia di un poeta surrealista francese nato nel novecento quindi un grande protagonista del movimento surrealista degli anni venti trenta ma poi ha scritto anche altre cose poi morto in un campo di concentramento tedesco a Teresi nella Repubblica cieca mi piaceva mettere insieme due mondi così distanti e come esattamente nel libro questi due mondi vengono collegati insomma preferitei non dirlo per non togliere un po' di sorpresa però devo dire che la struttura alla fine è abbastanza quella del giallo cioè c'è della tensione ci sono delle svolte che non ti aspetti ci sono dei colpi di scena però insomma più o meno la storia è questa e quindi è vero che il Monterossi torna come dire sotto i riflettori perché nei cerchi nell'acqua del libro precedente era stato un po' laterale pur sempre importante nella vicenda insomma laterale qui invece è proprio lui che indaga e che quindi fa tutte le sue come dire riflessioni tipiche del Monterossi per chi lo conosce diciamo bene io ok proprio perché hai parlato di Monterossi hai parlato della sua squadra eccetera ti leggo una cosa che dice Ghezzi e Carella sono fuori seguono un caso le dicono in una stanza dove timbrano passaporti e ricevono denunci annoiati e lo dicono alla Cirielli in questo libro non ci sono Ghezzi e Carella no ma perché ma guarda il motivo è molto semplice il discorso può essere vuoi la versione lunga o la versione quella che vuoi guarda sei libero il problema è questo il problema è questo Ghezzi io i miei libri sono molto corali di solito cioè io in un libro non so come torto marcio per esempio sì o follia maggiore non ti saprei dire chi è il vero protagonista se è il Monterossi Ghezzi Carella cioè insomma si tratta di storie parallele nei cerchi nell'acqua che era un libro insomma molto crudo e molto cupo forse figlio dell'epoca non lo so ma insomma ma molto cupo che era una storia di delinquenti di strada di balordi di insomma di feccia di quella che possiamo incrociare tutti i giorni insomma non grandi delinquenti ma brutte vite era una storia perfetta per i miei due sbirri da marciapiede che sono al Ghezzi e Carella questa è un'altra storia Ghezzi e Carella io potevo infilarceli forzatamente volendo ma non mi sembrava giusto non è la loro storia non è il loro ambito questa è una storia più Monterossi ma questa 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 cosa però io a me fa piacere quando mi dicono mi spiace che non c'è Ghezzi e Carella perché vuol dire che Ghezzi e Carella gli piacevano diciamo sono personaggi molto riusciti ma che io amo molto e che non ho abbandonato semplicemente diciamo a questo giro non c'era una parte per loro intendo una parte convincente è probabile che se uno si mettesse a scrivere coi criteri del marketing direbbe ah no allora troviamo una particina anche per i nostri attori preferiti e cerchiamo di infilarceli però eh data la presenza di The Snow e insomma di un altro di un altro livello di racconta mi sembrava come dire ingiusto metterceli eh a forza cioè sono personaggi molto forti Ghezzi e Carella che hanno bisogno di un loro raggio di azione se fanno solo le comparse insomma non 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 mi interessano e e quella frase che hai letto era proprio per dire no Ghezzi e Carella non ci sono stanno facendo un'altra cosa cioè tenere tutte cinque sei o sette i protagonisti nella stessa storia forzosamente è una cosa che non non mi va di fare mi sembrava un po' una furberia insomma di cui non non ho voglia non ho bisogno senti io ho fatto una cosa una cosa che fa che poi fanno un po' tutti quelli che ehm all'interno del libro vengono per per la prima volta eh a sapere di Robert eh di Robert Desno me lo sono andato a cercare su Wikipedia perché io non lo conoscevo quindi uno uno delle una delle cose che è quasi nessuno quindi come quasi ma infatti ma infatti io di questa cosa volevo ringraziarti perché eh innanzitutto il fatto di poter leggere non è solo un intrattenimento eh per diciamo per noi che siamo dei lettori ma diventa bello perché poi si vengono a conoscere incredibilmente delle cose che mai si sarebbero conosciute io sono veramente contentissima di aver conosciuto Desno anche se surrealista certe cose non le capisco però fondamentalmente sono stata contentissima di averlo eh di averlo conosciuto io di questo ti ringrazio ma volevo chiederti come mai hai deciso di ehm proprio di di prendere come personaggio Robert Desno e non un altro poeta esatto non un altro poeta di quel periodo oppure non un altro artista allora i motivi sono due uno un po' privato diciamo così io avevo in mente questa storia e me la limavo da un po' di tempo intendo il rapimento flora eccetera eccetera mi mancava un controcampo mi mancava una storia parallela che potesse giustificare questo questo piano bellissimo oltre le stelle come dice a un certo punto il rapitore e per motivi miei di 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 vacanza di insomma sono passavo da Praga andavo verso Dresda un paio d'anni fa e mi sono fermato al al campo di concentramento di Terezin in Repubblica Ceca Terezinstad che tra l'altro era il campo dei bambini quindi cioè vi lascio immaginare la la sofferenza che c'è tra quei muri lì c'è anche il museo ma è una cosa è un'esperienza molto forte di quelle esperienze che quando sei lì e ti rigetta indietro però è bisogna farle è una cosa civile giusta la memoria di quella roba lì e in quel campo agghiacciante c'è una come una nicchietta tra due muri con un alberello verde ho scritto qui è morto Robert Desno poeta resistente e anche per me Desno era sconosciuto era un nome che avevo sentito ma ai tempi del liceo in un altro secolo letteralmente e quindi ho incominciato a leggere a studiare a cercare tutto quello che si trovava su Desno tra l'altro in italiano non c'è molto quindi ho dovuto anche rispolverare il mio francese e leggermi delle monumentali biografie le poesie d'amore di Desno le filastroche per i bambini ha fatto fantoma alla radio cioè insomma era un vero talento oggi diremmo pop no era un grande rivoluzionario dal punto di vista della lingua della poesia oltre al fatto che ci sono delle poesie d'amore di Desno qualcuna la trovate nel libro che veramente sono meravigliose non so come dire insomma mi sono innamorato di Desno ed è stato come se lui mi chiamasse in qualche modo mi dicesse guarda sono qua ti manca una roba per il libro sono io eccomi e questo mi è sembrato bellissimo dopodiché studiando ho capito che Desno era esattamente quello che mi serviva perché io volevo contrapporre alla merda che ci fanno digerire ogni giorno questa banalità questa pornografia ha dei sentimenti con un controcanto che fosse invece un sentimento vero un rivoluzionario vero uno che cambiava le cose c'è anche la contrapposizione e come di la nostalgia anche se io naturalmente negli anni venti a Parigi non c'ero naturalmente però come dire la nostalgia per un movimento culturale che muove le cose che cambia i parametri della società mentre oggi qui siamo impantanati nella mediocrità più totale no senza coraggio senza nessuno che strappa ecco e mi è venuto in mente che un'epoca come quella di Parigi degli anni venti così viva vivace luccicante esagerata non so come dire che osava ecco oggi sarebbe eversiva sarebbe meraviglioso avercela per le mani io l'unica esperienza che ho fatto di una corrente culturale che ha cambiato un po le cose posso dire che è stato il punk no per esempio però insomma anche il futurismo russo nel 18 nel 20 non era male insomma ci sono stati dei momenti in cui è scoppiato tutto per merito di quattro poeti sfigati ubriaconi come però geniali ecco quella roba lì mi manca volevo contrapporla alla nostra mediocrità e in questo sì sì in questo diciamo che flora addirittura ne esce televisivamente trasformata anche se io l'avrei uccisa lo stesso cioè te lo dico io l'avrei ammazzata proprio flora però va ne hai facoltà diciamo ogni personaggio poi a questo punto è vostro non è più un affare mio scusa mi interrompo solo un attimo intanto per ricordare appunto tutti quelli che ci stanno ascoltando che di non lasciarsi scappare questo questa ghiotta opportunità di fare domande a alessandro e proprio diamila riferito al discorso che si faceva prima sui personaggi chiede tutti i personaggi ci piacciono dare loro un posto da protagonisti a vicenda è un'idea da portare avanti sinceramente non non lo so perché i libri non nascono dicendo adesso io prendo ghezzi oppure adesso prendo monterossi cioè comanda sempre molto la storia se io ho una storia in testa che diventa un'ossessione diventa una cosa cui pensi costantemente eccetera eccetera come dire la storia che comanda in in flora ghezzi e carella non ci sarebbero stati così come il monterossi sarebbe stato un ingombro nei cerchi dell'acqua non credo che farò come dire la la staffetta o il turnover come dicono quelli del pallone però a volte nelle storie ci starà uno a volte ci starà l'altro può anche capitare che ritornino tutti insieme perché no però è la storia che lo decide ma sì maurizio ciao maurizio che salutiamo dice ho avuto l'onore di ospitare una delle bimbe di teresine ora ultra ottantenne di new york sono cose che lasciano il segno ha scritto la repubblica delle farfalle non c'è niente da aggiungere quei posti li sono luoghi insomma dire che bisogna vedere per per capire fino in fondo e quando sei lì è una insomma è una prova dura forse teresine addirittura non è il peggiore ecco dico questa cosa orribile però senti veramente il dolore lì dentro non se n'è andato da quei posti lì e secondo me è una cosa che una volta nella vita bisogna fare io ho notato una bella un bel contrasto tra i rapitori e flora nel senso che ci sono proprio c'è un gap tra di loro non è una cosa incredibile poi flora diventa quasi umana durante il rapimento e questa cosa no flora no flora non è un essere umano flora è proprio e diciamo è la ciliegina sulla sulla torta diciamo della merda che tu hai hai ben costruito per cui voglio dire però diciamo i rapitori si il rapporto è molto è molto contrastante fra di loro a livello intellettuale e come come avviene di solito io sono sempre dal dalla parte dei degli assassini dalla parte dei rapitori ma in questo caso i rapitori proprio hanno un fascino incredibile e lo esercitano in una maniera anche molto come dire molto palpabile cioè dalle da ogni da ogni pagina in cui parlano i rapitori in cui intervengono i rapitori è come se il romanzo si distendesse che ci fosse quella passione cioè io ho sentito proprio un un trasporto nei loro comfort io ho detto ma perché non rapiscono a me e rapiscono quella deficiente di flora ecco questo ora tu hai ma perché tu non sei la regina della tv commerciale io non vedo neanche la tv tu immagina ad un certo punto corrado stranieri che è il capo di questa banda di rapitori insomma l'ideatore di questo piano un genio genio dice dice alla sua complice ea quelli che lo aiuteranno non non è noi non dobbiamo solo rapirla e costringerla a fare delle cose noi dobbiamo sedurla e in quel rapporto lì secondo me c'è un po la una delle cose che volevo dire del libro non voglio dire la chiave del libro perché ce ne sono altre però una delle chiavi importanti del libro cioè alcune cose che noi consideriamo troppo lontane da noi troppo alte i poeti oddio che paura no io non ci capisco niente sai quelle quegli atteggiamenti che si hanno nei confronti a volte della cultura alta è una cosa che mi è capitata anche con la liria quando ho scritto follia maggiore che mi era occupato di rossini no bisogna a quelle cose di levare la polvere levare le ragnatele quelle cose lì sono cose popolari quando desno leggeva le sue poesie quando faceva fantomala radio la gente correva a casa per ascoltarlo e allo stesso tempo quando rossini scriveva le sue opere giovanili che erano diciamo così un po scollacciate per i tempi era era un personaggio molto 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 popolare la gente andava a teatro e copriva con dei giornali il palco non per non vedere l'opera ma per fare nel palco quello che si farebbe in un privé possiamo dire così ecco c'erano cose molto popolari la gente le fischiettava le cose di rossini mentre ora dice rossini dice a no io non me ne intendo non voglio saperlo no e così è per i poeti i poeti vanno usati ci dicono delle cose usano delle parole che noi non sappiamo usare questo vale anche per dylan che c'è nei miei libri cioè c'è sempre una frase c'è sempre un verso di dylan che dice qualcosa che noi non sappiamo dire magari quello che vogliamo dire noi ma con le parole giuste col tono giusto e quindi the snow serviva anche per dire si può dare roba buona alla gente non è necessario dargli la merda cioè dargli dargli un prodotto mediocre è solo pigrizia con l'alibi alla gente non capirebbe non è vero se tu alla gente dai della roba buona quella la gente se la mangia volentieri anche questo era un po il senso del libro anche il senso di internet utilizzarlo per bene perché io se non ci fosse con le biblioteche chiuse tutto quanto se non ci fosse stato internet io non non avrei potuto fare ricerche su the snow quindi anche un invito a utilizzare bene i social a utilizzare bene i sistemi di telecomunicazione internet la televisione il telefono cioè il mezzo può avere delle colpe specifiche ma non ha tutte le colpe quindi se ti fanno gli scherzi al telefono di notte non è colpa del telefono è colpa del deficiente che ti fa gli scherzi questo voglio dire cioè c'è un mezzo usato male secondo me usato male per fini commerciali che è peggio ancora in cui si squaderna senza pudore la vita della gente non va bene bisogna parlare delle vite della gente bisogna parlare in un altro modo con più rispetto ecco forse un poeta nel 1920 ce lo insegna meglio di un esperto di televisione di un secolo dopo io ho visto che sia flora che un colpo al cuore di pier giorgio pulixi più o meno hanno intrapreso la stessa diciamo la stessa direzione io non so se tu hai avuto modo di leggere un colpo al cuore no no lo dico anche scusandomi con pier giorgio che è un amico che mi ha intervistato più volte con cui abbiamo cercherato spesso mi scuso con lui ma io insomma tra la scrittura del libro e poi le bocce le seconde bocce la revisione mi tengo alla larga mentre lavoro al libro dai dei dei giallisti soprattutto dagli italiani contemporanei per mio pudore di dire no morca misere non voglio sapere se poi incontro una soluzione simile alla mia un personaggio che non c'è non voglio non voglio saperlo me l'hanno me l'hanno detto e sono contento vuol dire che è una cosa che c'è nell'aria insomma cioè che è una cosa ma infatti era proprio quella è una cosa incredibile come in due cioè due autori differenti usciti più o meno nello stesso periodo quindi vuol dire che avete scritto i vostri libri più o meno nello stesso periodo non penso che vi siate sentiti abbiano centrato lo stesso tra virgolette lo stesso problema questa cosa è abbastanza ovviamente in modo differente perché ognuno poi le le vede in maniera differente e quindi ho molto apprezzato il fatto che se c'è una cosa da denunciare grazie a dio la letteratura lo fa ed è un la letteratura come dire è molto potente da questo punto di vista e soprattutto i noiristi i giallisti hanno un modo di farlo molto più accattivante rispetto ai sociologi o a quelli che scrivono proprio libri un po più pesanti dei saggi e quindi su questo guarda io sono sono veramente contenta perché spero che poi però questi libri entrino nelle mani dei ragazzi però io credo sono assolutamente d'accordo che il giallo il noire italiano in special modo diciamo così sia stia diventando come dice macaris peraltro no oggi il noire il vero romanzo sociale e va bene sono d'accordo e in tutti i giallisti italiani c'è sempre una sfumatura no della società ovvio sono d'accordo benissimo dopodiché però mi viene anche da dire che ogni 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 indagine su un crimine su un omicidio su un delito o qualunque cosa da codice penale è per forza un'indagine sulla società perché perché a meno che tu non maneggi non so se il serial killer che scuoia le ragazzine come dire una cosa che non ci interessa ma se tu vuoi raccontare un delitto vero credibile plausibile dei giorni nostri non puoi non raccontare dove accade a chi perché in che in che contesto sociale in che contesto economico e se il morto era ricco se era povero se doveva dei soldi a qualcuno se c'è di mezzo della vendetta e la società la racconti anche involontariamente se vuoi ma ti dico addirittura che persino nel giallo vittoriano diciamo così no quando appunto è stato il maggiordomo perché è stato il maggiordomo perché erano libri scritti dall'aristocrazia per l'aristocrazia e quindi non poteva essere una contessa l'assassino cioè l'assassino era sempre una persona di grado inferiore no lo stalliere il maggiordomo la domestica è una cosa ideologica no che c'è in quel giallo vittoriano e così anche oggi noi raccontiamo la nostra società quando raccogliamo il cadavere da terra questo è è un po inevitabile diciamo così e e forse anche per questo che si usa molto il noir per parlare della società perché in un momento estremo come quello del crimine del delitto le sfilettature non so come dire le crepe nel tessuto sociale si vedono meglio io io sono sono convintissima di questo questa cosa e l'ho detto a me fa fa anche molto piacere perché un domani i ragazzi o comunque anche adesso i ragazzi possono venire a contatto con con la loro società e alla fine del alla fine del del libro cioè ho l'impressione che sia un po aperto poi potrebbe esserci qualche risvolto futuro di sì sì no dunque cioè loro non vengono ho scritto finali più aperti di questo sì sì questo sì questo non c'è dubbio no no io non guarda se c'è una cosa che io non faccio è quella di lasciare dei semini per il libro dopo no cioè come quando si apre una cosa non la si chiude perché poi dopo ne riparleremo no secondo me la storia è chiusa così anche con una sua diciamo lezioncina morale adesso lo dico male ma insomma anche con con un'opinione diciamo su quello che è successo durante la storia dopo di che è vero che nelle storie soprattutto nelle storie noir come nella vita però credo le cose non si chiudono mai completamente tutti i pezzettini non vanno mai al loro al loro posto e questo lo dico avendo studiato per esempio non so per torto marcio o ma anche per i cerchi nell'acqua la differenza siderale che c'è tra la giustizia dei tribunali l'avvocato il giudice e il senso di giustizia che ognuno di noi ha nel suo cuore diciamo così e se i tribunali ti danno una verità processuale che non è mai la verità non è mai una cosa conclusa e al tempo stesso qual è la verità definitiva non ce l'avremo cioè io adesso non posso parlare del finale del libro però insomma per una volta diciamo così mi rimprova non sempre di non metterci l'happy end direi che per una volta quelli per cui abbiamo fatto il tifo se la cavano benino ecco anche questo fa fare l'amore questo bel motto però questo è un bel motto poi alla fine anche questo fa fare l'amore è un bellissimo modo è brutto che venga pronunciato anche per le le situazioni più brutte però come come ti è venuto in mente di coniare questo diciamo questa frase è dal primo libro che gira questa il motto di è un po il motto di flora e quindi quando io per la prima volta mi sono pensato quello vergognoso spettacolo che è crazy love di cui il monterossi tra l'altro è responsabile sì sì lui ha inventato il format macerato dal senso di colpa insomma e poi in tutti i libri successivi lui lavora per mollare quella roba lì per andarsene ma insomma l'ha inventata lui è inutile che ci giriamo intorno e quindi volevo dare a questa cosa un anche una sua credibilità di spettacolo cioè quando flora dice anche questo fa fare l'amore e conclude con questo slogan diciamo così tutte le storie che presenta sia che finiscano bene sia che finiscano male divorzi crisi gente menata insomma comunque flora a questo suo modo di infiorettare la cosa ma ma come in questo libro secondo me è accettata questo sembra proprio che i libri siano stati siano stati preparati perché poi la frase fosse accadente in questo in questo libro incredibile semplicemente aveva un personaggio che era già comparso molte volte e che in questo caso si prende la scena in modo clamoroso diciamo così è la vera stella del libro era ovvio che la sua frase preferita diventasse una specie di marchio di fabbrica ecco ci accade proprio ci accade tantissimo ma stai stai progettando qualche altro libro stai scrivendo cosa stai facendo no 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 adesso il mio io non intendo derogare dal mio ritmo diciamo così credo che credo che un romanzo di 400 pagine all'anno sia il suo tempo cioè io devo avere una storia in testa devo limarmela per bene e quando l'ho limata la destrutturo come 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 fanno i cuochi che ti danno il tiramisù destrutturato diciamo una ecco poi la rimetto insieme insomma io quando mi scrivo al computer a scrivere vuol dire che la storia ce l'ho già in testa e questo ha preso qualche mese poi ci vuole qualche mese per scrivere perché io detesto le robe sciatte tirate via cioè se mi metto lì a scrivere diventa veramente una piccola ossessione quindi devo starci del tempo poi come sapete dopo c'è tutta la post produzione che vuol dire cercare una copertina un titolo le bozze c'è il lancio tutto quello che volete quindi insomma un anno è un tempo abbastanza onesto per per fare un libro vedo gente che ne fa tre o quattro cinque all'anno come dire sono molto invidioso li ammiro molto per la loro come dire capacità però no io non per ora non l'ho fatto ma ma non neanche l'esigenza di farlo perché non voglio mettermi come dire angosciosamente oddio c'ho bisogno di una storia oddio devo scrivere un libro io non ho alcun contratto io firmo il contratto con sellerio quando ho in mano il libro quando quando sono sicuro che ci sarà il libro quindi non ho fiato sul collo di qualcuno per ora mi sono tenuto sentito benissimo trovato benissimo con il mio libro all'anno avevo una curiosità alessandro certo ho letto che il salone del libro di torino ti ha fatto adottare per tre lezioni da una classe di studenti sì che cosa devi fare esattamente che cosa ti ha chiesto di fare ma sai che non lo so cioè nel seno nel senso che credo che dovrei deciderlo io però diciamo così la mia il mio dna democratico fa in modo che io ne parlerò con i ragazzi cosa vogliamo fare cioè così cosa vogliamo occuparci avremo 6 7 8 ore credo insieme io vorrei dirgli divertiamoci prima di tutto e vediamo di combinare qualcosa per esempio io vorrei parlare a loro appunto di questa idea di ossessione che ho io no cosa vuol dire costruire una storia da zero costruire un personaggio questa parola che hai scelto ossessione di costruire un personaggio ed è un ed è un'ossessione sia esterna che interna cioè quella esterna è la costruzione della storia come mi invento un personaggio come lo sfaccetto come lo crea proprio una specie di operazione del plasmare diciamo così e dall'altra parte c'è un'ossessione interna questa frase è scritta giusta va bene così si poteva dire meglio questa parola in questa frase è quella che è quella che ci vuole oppure magari ce ne vuole una meno precisa ma che suona meglio ecco tutte queste cose quindi dalla struttura del libro fino al vorrei dire quasi all'ultima virgola diventa un ossessione vorrei contagiare un po questa ossessione ma non solo sui miei libri è per carità cioè possiamo leggere di tutto io vorrei leggere con loro dei pezzettini qua e la fargli vedere come questa ossessione se l'è giocata che ne so google oppure rostoievski oppure emil zola cioè perché perché poi dico una cosa brutta ma tutti parliamo delle stesse cose i motivi per cui si ammazza la gente sono cinque o sei e sono sempre quelli avidità odio denaro gelosia invidia insomma come dire non è ma eppure di gente che ammazza altra gente si scrive da secoli e si scrive sempre in modo diverso ecco la mia la mia proposta sarà andiamo a vedere come l'hanno fatto quelli bravi no e questo è anche per i ragazzi insomma secondo me è cioè più leggete e più saprete scrivere poi uno può anche dirmi a me non me ne frega niente di scrivere però non è vero l'SMS alla ragazza comunque ti capiterà di scriverlo scrivilo bene è meglio non so come dire ma se ti avessero chiesto appunto di scegliere una parola all'inizio della tua carriera quindi non adesso che comunque hai pubblicato tutta una serie di romanzi pensi che sarebbe stata sempre ossessione no ma no no ma ma non ma noi cambiamo cioè ma io se penso a me stesso trent'anni fa o venti anni quando pure già lavoravo molto quindi tutti siamo una persona diversa ma anche solo da cinque minuti fa quindi figurati trent'anni no non saprei che parola avrai scelto però posso dire che io concepisco molto la parola ossessione come innamoramento cioè io quando io non è che ho studiato rossini diciamo io mi sono innamorato di rossini e poi ovviamente essendone innamorato come di desno io mi sono innamorato della sua vita e poi sono andato a cercare poesie poi ovviamente di desno ci sono cose che mi piacciono molto cose che mi piacciono di meno però credo che la sua opera d'arte vera sia la sua vita quindi insomma studiarlo conoscerlo sapere come reagiva quando qualcuno gli stroncava un libro oppure come come si comportava con le ragazze con le sue donne i grandi amori che ha avuto insomma è un'infatuazione ecco anche questo è un po un ossessione ora che desno è nel e dentro nel libro e in flora una sua parte se qualcuno si legge una poesia di desno io sono felice come dire missione compiuta ecco basta avrò altri innamoramenti avrò altre ossessioni spero ce lo auguriamo anche noi assolutamente senti poi lascio la parola a luciana volevo solo riportati di amila che chiede la copertina infatti come sempre da sellerio è bellissima ha contribuito alla scelta e racconto una cosa che è successa e che mi fa molto piacere dopo aver avuto quel allineamento di pianeti con desno che mi chiamava che mi diceva usami per il tuo libro va bene e poi siamo andati avanti con questa cosa abbiamo scelto la copertina come come sempre si fa insomma ne avevamo tre o quattro e una ci piaceva di più una ci piaceva di meno insomma poi anche con l'editore naturalmente chiedendo anche consigli in giro no voi cosa fareste eccetera eccetera e la scelta è caduta in modo totalmente casuale su quella copertina al dì che ha un olio su tela che si intitola spleen e che che si intitola spleen e che è di una pittrice francese che si chiama edith chauvet simon la quale dopo che è uscito il libro mi ha scritto e mi ha detto ah come sono contenta che bella la copertina mi piace io non leggo l'italiano però ho letto che parla di desno e mi ha detto pensi che combinazione che mio nonno è morto a teresina ed era un grande amico di desno ed è morto insieme a lui e quindi questa storia come dire a parte il fatto che la copertina mi piace tantissimo ed è bellissima però a parte questo si è portata dietro anche quest'ulteriore allineamento di pianeti non so come chiamarlo insomma ma una cosa casuale veramente bellissima ora ci scriviamo con edith e io tento di raccontarle un po' il libro perché lei non potrà leggerlo finché non sarà tradotto in francese carlotta per caso scrive secondo me dopo la pubblica no figurati secondo me dopo la pubblicazione di flora i libri di desno hanno avuto una felice seconda vita sicuramente molti andranno lo spero lo spero c'è una l'unica raccolta di antologia di poesie in italiano è pubblicata da un editore molto piccolo e quindi io spero spero che non solo che l'editore piccolo che pubblica desno faccia fortuna insomma insomma ne stampi di più ne venda di più ma anche che magari si risvegli un nuovo interesse su desno perché no insomma alla fine un poeta non facciamo niente di male no alessandro il caso esiste oppure secondo te nulla avviene per caso beh domanda irrispondibile no io sono della linea il caso esiste il caso esiste le coincidenze esistono e sono messe lì apposta per romperci i coglioni non solo non solo ai poliziotti agli inquirenti ma proprio nella vita di tutti i giorni a volte ci sbagliamo perché insomma non teniamo conto del potere del caso poi dopo niente succede per caso si è un anche un atteggiamento come dire un po come dire psichedelico che uno ogni tanto può anche adottare diciamo niente succede per caso però purtroppo invece nella vita molte cose anzi troppe secondo me succedono per caso quando quando tu scrivi a parte dylan cosa ascolti dylan e rossini a questo punto cosa ascolti cos'è che concilia la tua la tua scrittura no allora mentre scrivo non no non ascolto musica mi distrae un po non mi sembra di sentirla male non so come dire poi io scrivo poi io scrivo in un posto dove non io scrivo in un bar sul mare d'estate quindi con i bambini che gonfiano i gonfiabili col compressore gli altri che fanno colazione quindi nel casino quindi se devo dire se c'è una musica mentre scrivo è quella della radio con gli testivi e le canzonette dell'estate proprio da bar della spiaggia diciamo però io credo che i suoni il suono la musica abbiano un'importanza fondamentale nei miei cioè insomma come dire sono molto presenti nei miei libri perché noi non ce ne rendiamo conto ma in ogni ambiente in cui entriamo noi sentiamo del rumore della musica dei suoni nessuno di noi ci fa più caso ma quando stai al supermercato che stai comprando le cipolle c'è c'è sempre una specie di colonna sonora in quasi insentibile ma insomma che ti entra nelle orecchie e poi anche lì naturalmente poi avendo fatto per molto tempo il critico musicale diciamo ogni tanto ho degli innamoramenti faccio un salto sulla sedia nel libro per esempio è citato a un certo punto a proposito di quella seduzione che dicevamo prima dei rapitori con flora a un certo punto corrado stranieri le porta un iphone con delle cuffie delle cuffie vere non quelle vere sì 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 quelle 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 vere e dice senta questa cosa e le fa sentire il secondo movimento della serenata per archi in mi minore di borac e lei e lei rimane come dice bellissimo bocca abierta dice è la cosa più bella che ho mai sentito e ed è così sono degli innamoramenti sono delle 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 scintille nella tua vita quando scopri una cosa come quella lì che poi è una cosa nota eh non è che l'ho scoperta io per carità cioè io quando l'ho sentito ho fatto un salto sulla sedia ho detto porca miseria anch'io ho detto quasi diciamo è la cosa più bella che ho mai sentito poi ne ho sentito delle altre io quando quando leggo i tuoi libri di solito appena leggo una citazione subito me la vado a sentire anche quella dei dei pil me la sono andata a sentire voglio dire per capire perché perché c'era quel titolo lì poi ovviamente quella era un po estrema sì però è del resto voglio dire ci sta ci sta tutta e ecco perché mi era venuta questa questa curiosità perché a volte proprio ci facciamo trasportare io ogni tanto chiedo agli autori se hanno una playlist perché magari qualcuno la pubblica anche la playlist magari su spotify dove ci sono tutte le canzoni magari che hanno accompagnato la scrittura io non ho mai fatto una playlist però qualcuno me l'ha mandata una cioè mi ha mandato dei file dicendo questi sono le canzoni che tu hai messo nel libro e ha incominciato il primo libro e a ogni libro ha creato questa playlist aggiungeva no nella nella playlist un altro addirittura che non ricordo adesso qui come dire il nome ma è uno di isernia quindi lo ringrazio anche se è anonimo a un certo punto mi ha mandato una chiavetta con dentro una decina di bootleg rarissimi di dylan di quelle cose che io cercavo da anni tipo non so alabama 1974 cose da matti collezionisti diciamo così però lo ringrazio tantissimo e quindi i lettori sono sempre come dire più avanti di me io come dire no non l'ho mai pensata la playlist però insomma ci sarebbe anche della roba buona credo anzi molta roba buona musicale assolutamente una domanda anche a parte di sì 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 quello è sicuro da parte di greta ira che salutiamo e ovviamente i tuoi lettori si sono affezionati a monterossi e quindi scatta credo in automatico il desiderio della della serie tv e quindi già si lanciano a cercare un volto per monterossi io lo vedo un tipo neri marcore ma un po più figo guarda io se devo dirti la verità che fa ma ogni tanto me lo chiedono ovviamente se dovessi dirti adesso che faccia al monterossi io non lo so nel senso che non si genericamente conosco conosco perfettamente il carattere so perfettamente cosa direbbe il monterossi in qualunque occasione persino cosa penserebbe come vestito che macchina guida in che casa abita che gusti a cosa gli piace bere però la faccia proprio non me la vedo si porrà inevitabilmente credo questo problema della serie ci stiamo lavorando naturalmente io non dico niente finché non ho delle notizie sicure perché poi se quelle robe lì del cinema sono sempre un po strane finché non sei sicuro è meglio non dire niente però davvero sulla faccia del monterossi non mi esprimo credo solo che debba essere un bravo attore ma molto bravo attore perché il monterossi è un personaggio abbastanza sfaccettato che contiene del blues che non è felice di se stesso e quindi credo che insomma se mai il monterossi arriverà sugli schermi vorrei un grande attore non dico altro senza il mio avvocato il fatto che mi aggancio a quello che tu hai detto perché in effetti nel momento nel quale si legge il libro eccetera in effetti poi alla fine ci si affeziona magari si sa che cosa magari pensa uno si fa un'immagine però ogni volta viene viene smentita è come se a un certo punto non fosse fondamentale l'aspetto come che poi è una cosa differente per flora perché flora viene definita esattamente per com'è gli altri personaggi sono molto evasivi perché probabilmente la loro potenza deriva dal dal loro carattere da quello che pensano proprio a creare il contrasto con quella che l'immagine sì però credo che questo per paradosso sia proprio un portato del cinema cioè io adoravo quei grandi romanzi russi no in cui per quattro cinque pagine c'è la descrizione del personaggio natasha filippovna era alta un metro e settanta aveva i capelli biondi fino alle spalle e e per dieci pagine vedi lei il suo salotto i suoi vestiti come seduta ecco credo che dopo il cinema diciamo questa cosa qua non non si trova più un personaggio è descritto mentre agisce per come si comporta per come parla per quello che pensa per come per quello che dice credo che l'aspetto fisico e che ogni tanto ovviamente bisogna un qualcosa esce sì sì ma non sia fondamentale ovviamente quando questo diventa un attore in carne ossa che incarna il personaggio la faccia diventa fondamentale però io ci tengo a dirlo è un altro mestiere cioè anzi io sono molto curioso di vedere come il mio lavoro che è quello di scrivere i libri sarà rilavorato da gente brava attori registi cioè sarà mio e al tempo stesso però sarà anche loro non voglio capito eh credo che siano due linguaggi diversi e si tenterà di dire di raccontare la stessa storia con due linguaggi diversi cosa è quel quella caratteristica che non dovrebbe assolutamente mancare in un personaggio televisivo per quanto riguarda sia Monterossi ma tutti i tuoi i tuoi personaggi perché magari no ma dimmi io credo che io credo che molto spesso nel alcune fiction che vedo la il difetto del personaggio è che sia un po tagliato con l'accetta che sia monodimensionale mentre io ci tengo molto che i miei personaggi siano più sfaccettati cioè il Monterossi è un caso di scuola perché è uno servito riverito molto ben pagato per fare una cosa che lui detesta e quindi se tu non sai rendere questo blues se tu non sai rendere questa punta di acido che c'è nella sua vita è molto difficile rendere il Monterossi quindi per fare questo ci vuole un bravo attore credo che lo trovi bene ma io per questo te lo chiedevo proprio perché ci sono dei tagli cioè per chi legge i libri e poi magari si incuriosisce e vede le fiction molto spesso ci sono delle cose basilari dei romanzi che vengono totalmente ignorate perché ovviamente come dicevi tu la fiction è un linguaggio totalmente differente per cui magari si creano anche delle delusioni e quindi quella che è la caratterizzazione del personaggio viene smentita ecco perché ti chiedevo cosa non dovrebbe assolutamente mancare in Monterossi ma a questo punto anche in Ghezzi in Carella anche in in Falcone sono cose che caratteristiche speciali che li rendono unici e che non dovrebbero mai mancare quindi mi accontenterei che avessero il loro spessore ecco dopo di che ovviamente io sono contento se si dice era meglio il libro come la maggior parte delle volte però non è vero secondo me non è vero secondo me c'è un errore che è appunto aspettarsi da una fiction le stesse identiche cose del libro non è così la fiction è un'altra cosa presa da quella storia lì ma insomma persino che ne so cioè la riduzione dei promessi sposi non sarà mai i promessi sposi sarà un'altra cosa magari nel suo campo migliore eh attenzione però non è come se tu mi dicessi ah che bel libro adesso facciamo una sinfonia e io ti dico sì benissimo ma sarà un'altra cosa non sarà il libro certo come consideri i promessi sposi perché per esempio questo libro ho notato che è no te lo spiego il perché eh nelle varie interviste che io ho sentito e che ho fatto eh quando si si parlava di classici o di eh libri fondamentali per la cultura e la formazione o per la lettura di un autore eh a parte il conte eh di di Montecristo c'era sempre i promessi sposi come uno dei romanzi più attuali e più eh vivi eh della letteratura italiana e quindi volevo sapere tu che cosa pensavi dei promessi sposi? Eh ma dunque io insomma è il romanzo italiano dell'ottocento no? Quindi non cosa posso pensarne? È una roba che fa parte quasi del nostro DNA l'abbiamo studiato tutti a scuola nonostante ci siano romanzi dell'ottocento italiano eh anche migliori penso ai vicere di De Robert per esempio no? Però è è una parte di noi e quindi piuttosto mi chiederei eh quindi non ho assolutamente niente contro i promessi sposi ovviamente a parte che la visione manzoniana della provvidenza che sistema tutto a me non mi piace perché ho altre radici culturali eh però no però come dire contestare un romanzo come i promessi sposi che tutti leggiamo da centocinquant'anni è una cretinata no? Cioè se lo leggiamo da centocinquant'anni un motivo ci sarà una cosa che mi sono chiesto una cosa che mi sono chiesto quando mi occupavo dei dei Rossini per esempio eh era questa come mai un ragazzo italiano di diciotta anni esce dal liceo conoscendo Manzoni ottimo giusto magari non sapendo niente di Rossini, Verdi, Cuccini e quelli sono stati il nostro vero romanzo dell'ottocento cioè nel mille ottocento quando i russi sfornavano un capolavoro dietro l'altro eh e i francesi pure Tum 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 Zola e Vittor Hugo eccetera eccetera e noi abbiamo solo il Manzoni no non è vero noi abbiamo il Manzoni Rossini Verdi Cuccini cioè il melodramma italiano dell'ottocento è il nostro grande romanzo e poi c'è anche il Manzoni che per carità bisogna leggere che è un grande classico e e ripeto se lo leggiamo da centocinquant'anni porca miseria un motivo ci sarà un motivo ci sarà una è una cosa che dice sempre Dylan cioè trecent'anni voi parlerete ancora di Dylan eh è questo è questo un po' il discrimine tra l'arte che resta e e e quella che passa via e dopo sei mesi uno nemmeno si ricorda più che è uscito capito eh quindi diamo al Manzoni quello che è del Manzoni poi ho visto volevo Cristian Frascella che salutiamo Cristian lo volevo salutare anch'io Cristian è un folle pure lui quando rispondono i promessi sposi è perché non ne conoscono altri eh sì ma non voglio dire niente cioè insomma anche un po' peggio per loro perché io spero che oltre ai promessi sposi abbiano letto qualcosa altro beh sì tu che cosa leggi di solito ma guarda io leggo delle cose molto strane perché eh come ho detto quando scrivo non leggo i noir quindi però il che vuol dire che per quasi tutto l'anno non leggo i noir diciamo eh ho smesso ecco ecco diciamo smetto quando voglio ho smesso un po' di leggere i noir anche però perché trovo che ci sia oggi un po' una bolla del giallo cioè vedo che tutti scrivono i gialli cioè ehm se guardi le uscite su 50 libri che escono 30 sono gialli o o simili gialli quindi insomma come come dire non non mi appassiona a quello che ultimamente sul comodino ho molti russi perché adoro i classici russi e come dire sono un tifoso posso dire di Gogol e quindi leggo e rileggo molto spesso le sue cose ehm molto adesso c'ho sul comodino anche il romanzo di Nori su Dostoievski ehm e poi insomma sono abbastanza onnivoro leggo un po' di tutto riservandomi quel diritto del lettore di mollare dopo 30 pagine se la storia non si va dentro ecco e quindi non insomma leggo cose un po' strane con una preferenza per la letteratura mitteleuropea cioè diciamo il mio libro preferito è a Berlina Alexanderplatz di Döblin amo moltissimo Kundera ehm anche se adesso credo sia lo scrittore più fuori moda dell'universo però non importa ha scritto delle cose meravigliose ehm insomma diciamo che raramente leggo i contemporanei vedi Pina Masturzo dice beh sicuramente conoscono poco dei marchi che a fine ottocento ha scritto il caposcritto dei nuovi italiani verissimo vabbè che però con tutto il bene per De Marchi che è stato un grande non paragonerei al Manzoni ecco diciamo certamente Cristian chiede Alessandro domanda tecnica fai una scaletta quando scrivi ehm no no io no non prendo neanche gli appunti ehm forse i nomi ecco se mi viene un buon nome che è da usare quello me lo scrivo per non dimenticarmelo però no io sto c'ho una finestra di word aperta costantemente nel cervello anche mentre faccio il re anzi soprattutto mentre faccio tutto il resto e e e lì nasce il primo intreccio la prima storia il primo meccanismo che poi si si allarga si ehm si complica si come dire si ingarbuglia si risolve quando ho la storia in testa molto bene diciamo perché molto bene anche perché ci penso da mesi quindi come dire eh e e la storia mi convince allora quello è il giorno più bello dell'anno quando io apro il Mac per dire adesso la scrivo è anche una vertigine eh perché poi la domanda è adesso come cazzo la scrivo sta roba e e e e e lì lì poi dopo puoi cambiare puoi divagare poi le puoi poi eliminare dei pezzi aggiungerne degli altri però l'importante è che la la storia stia in testa come se fosse una cosa che è successa a me cioè come se fosse una cosa che conosci bene anche le cose che non racconterai anche delle cose che hanno portato a quelle cose lì quindi no non prendo appunti non faccio scalette no rileggo molto rileggo in continuazione quando io mi metto a scrivere qua in quel giorno bellissimo in cui apro il Mac per scrivere diciamo che nei prossimi tre o quattro mesi io so che non leggerò altro cioè non leggerò seriamente diciamo altro che non sia rileggere riscrivere cambiare no questo non va bene facciamolo meglio facciamolo meglio eccetera eccetera è una so te l'ho detto è un'ossessione quindi giusto no prima stavo cercando la la frase perché c'è una frase sull'ossessione all'interno di flora poi non va bene non sono riuscita a trovarla però sicuramente è una bellissima ossessione oltretutto è così piacevole leggerti anche perché ogni tanto ci sono le battute quindi è veramente molto piacevole mi ricollego a un apprezzamento che aveva fatto Gabriella Giglio che io saluto che è una cara amica che ha detto che è molto lo ha iniziato a leggere lo sta leggendo e ha detto che è molto piacevole infatti buonasera lo sto leggendo una storia intrigante una scrittura accattivante bravo Alessandro Robecchi quindi sono assolutamente d'accordo con lei perché è così gradevole il fatto che tu dica questa cosa la devo sentire io eccetera ma secondo me le battute sono le tue cioè io vedo te in quelle battute lì assolutamente uno non può nemmeno come dire mimetizzarsi troppo cioè io credo che tutto quello che noi scriviamo tutto dalla nota della spesa in su contenga qualcosa di noi anche se noi non lo vogliamo anche se lo vogliamo nascondere ma io sono sicuro che se io scrivessi che ne so un porno gotico ambientato in Corea del Nord comunque qualcosa di mio ci sarebbe cioè non so come dire il modo di dire una cosa il modo di presentare un ragionamento il modo di qualche tic verbale cioè sono tutte cose che entrano anche involontariamente e tra queste le battute perché no cioè comunque l'ironia il sarcasmo addirittura la satira in flora ce n'è parecchia direi sì 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 infatti devono devono essere un linguaggio che si mischia agli altri linguaggi cioè tu io voglio farti ridere posso farti ridere ma posso anche farti un po' piangere e questo se ci pensi è quello che succede a tutti noi tutti i giorni ridiamo piangiamo diciamo delle cazzate delle battute alcune vengono bene alcune magari sono volgari vabbè pazienza e poi magari però c'è un attimo di sincerità e tristezza che ti rende più malinconico cioè non credo ci sia qualcuno che dice solo battute e un altro che piangono ma certo no 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 assolutamente è un mix è un mix che secondo me deve venirti naturale deve fare parte del tuo del tuo processo mentale io credo che scrivere sia pensare delle cose scriverle e quando sono scritte sono meglio di come le hai pensate ah che bella questa cosa se tu riesci a fare quella roba lì che non riesce sempre eh attenzione bisogna lavorare cioè un lavoro eh se tu riesci a fare quella roba lì puoi andare a letto contento e dire cazzo ho scritto bene quello che volevo dire ecco questo devo dire ecco questo devo dire che delle cose che mi degli elementi diciamo così di soddisfazione che che ho innegabilmente le vendite le classifiche tutto quello che volete però la cosa che veramente mi fa più piacere è quando io riesco a a mettere giù una frase e dico ecco questa qua non poteva essere meglio fantastico e quindi tu capisci che per me è anche una sofferenza a rileggermi io quando mi arrivo al libro a casa in quella magica scatola del primo invio quando tu apri lo scatolone c'è il libro nuovo che anche quello è un momento bello della vita diciamo ehm io non 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 prendo in mano il libro subito lascio passare del tempo lascio passare anche un metro perché ho paura di trovare una cosa che poteva essere detta meglio poteva essere scritta meglio e e tuttora quando ho lavorato con i traduttori francesi per per la chanson che è uscita in Francia e loro mi chiedevano delle cose su dei pezzettini come possiamo tradurre questo e io dicevo ma cazzo questo potevo scriverlo meglio e quindi e quindi è una tortura è una tortura sconsiglio a tutti quelli che scrivono di rileggersi dopo e di rileggersi alla nausea prima bene io penso che qua ci sarebbero altre due milioni di domande però adesso Cecilia il marito di Cecilia ci ammazza sì perché è una famiglia esatto allora guarda io voglio solo farti l'ultima domanda perché è veramente l'ora è volata e abbiamo anche sforato e prima di salutarci volevo eh leggerti una frase di Raymond Chandler che scrisse almeno la metà dei racconti gialli pubblicati viola la regola che la soluzione una volta svelata deve sembrare inevitabile quale regola per Alessandro Becchi deve essere inevitabile all'interno di un romanzo ovviamente cioè spiegata in pochi minuti guarda io io adesso mi prendi un po' alla sprovvista con questa domanda quindi magari rispondo male però io credo che in pochissime cose nella vita si sente l'insincerità come nella parola scritta cioè tu puoi mentire benissimo puoi essere puoi mascherarti puoi mimetizzarti ma quando scrivi farlo è difficilissimo cioè mentire è difficilissimo io posso leggere dieci righe e ti dico subito se lì dentro c'è della sincerità oppure no ecco io la prima regola è dico quello che penso costruisco le mie storie per dire delle cose che penso l'ho fatto in follia maggiore volevo parlare del rimpianto che è una cosa che mi interessa nei cerchi dell'altro ma anche in torto marcio volevo parlare della giustizia dell'ingiustizia della giustizia non so come dire quello che è legale non è sempre giusto giusto ecco quindi io ecco l'onestà di dire io volevo dire questa cosa ho costruito questa storia per dire questa cosa ecco se una cosa suona festa per calcolo perché strizza l'occhio un certo target di lettori o perché vuole fare il piacione con un altro target di lettori ecco quelle robe li mi irritano credo che la mia insomma una cosa che c'è di sicuro nei miei libri è una sincerità di intenti dopodiché troverete magari delle cose anche voi che come me direte questo potrebbe essere scritto meglio va bene d'accordo giuro la prossima volta lo scrivo meglio però non deve mai venire meno quella onestà con il lettore insomma una sincerità è una bellissima risposta posso fare un saluto a Donatella Varraso e a Cristian che ha scritto sì Donatella Varraso che ci saluta e volevo salutare anche Cristian che ha detto ciao a tutti vado a scrivere il primo gotico ambientato in Corea del Nord un porno scusami io ho il telefonino non vedo quindi è un porno gotico non il primo sì madonna quanto è simpatico io ringrazio comunque sì ringrazio davvero tutti della partecipazione ricordo di comprare compratelo perché è bellissimo in libro in libreria andate nelle librerie aiutate le librerie in questo periodo difficile Alessandro sei stato gentilissimo disponibilissimo è stata una ma figurati abbiamo anche sporato il tempo Luciana come sempre preziosa preziosa conduttrice di questo blog bravissime tutte e due ottima viacchierata grazie sono molto contento e ciao a tutti quelli che c'erano alla prossima alla prossima alla prossima grazie a tutti ciao